Un saluto dal Tg della Mobilità, domani il nuovo intervento di pulizia straordinaria sul viale del Muro Torto, in programma dalle 6 alle 17. Ad essere interessati dell'intervento di pulizia saranno i sottovia di Corso Italia, sempre a Corso Italia, chiusure anche in superficie sulla carreggiata in direzione e verso da Piazzale del Brasile a Via Lucania. Interessate inoltre sia l'area adibita a sosta lungo le Mura Aureliane tra Via Po e Via Giacomo Puccini che la carreggiata lato Mura Aureliane in direzione e verso da Via Augusto Valenziani sino a Porta Pia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.